Intanto noi continuiamo a conoscere il legato e io approfitto sempre per fare delle domande perché sono curiosissima. Juan Cruz, Giovanni Croce, come mai cominciate a tradurre le vostre canzoni? Perché cominciano a tradurre le canzoni di Tedes? Bueno, cominciamo a tradurre le canzoni per aprire l'espectro musicale e per che la gente d'Italia possa anche entendere il messaggio che facciamo nelle nostre canzoni. Quindi per aprire le porte della musica qua in Italia e che la gente possa capire il messaggio che in realtà volete dare. Certo. Bene, invece passiamo al microfono a Mariano che è quello che ancora ancora non ha parlato più di tanto. Mariano, chi le ha dato una mano a tradurre le canzoni? Chi le ha dato una mano? Chi? Per tradurre le canzoni. Quindi cugini, parenti, amici che avete qua, conoscenti qua anche in Italia. Amici, amici e il poco conoscimento o molto conoscimento dell'italiano che hanno in loro. E la conoscenza che avete quindi anche voi fratelli dell'italiano. Ecco, io invece avevo detto ieri che avevo una sorpresa per stasera. Quindi la sorpresa è che hanno preparato, tutto passa, ma in versione tutto passa, esclusivamente per noi Soma Lombardo TV. Quindi anche se siamo in questo angolo argentino, stasera gioca l'Italia e quindi anche noi tifiamo per loro. Alla fine siamo tutti fratelli d'Italia. Lasciamo. Come ho. Forza, tutto passato, passato, tra l'altro, forza, forza Italia. Forza, forza Italia.